Salve amici, sto combattendo a Clash Royale Speriamo di vincere Sono arrivato in Arena 5 e ho trovato il Drago Infernale E anche sto perdendo a Clash Royale perché la strega mi sta attaccando Lo vedete? Quella brutta strega Poi questo maledetto principe arriva e fa E poi arriva il Drago Infernale che attacca insieme il cielo Poi questo maledetto negro attacca e distrugge la torre in 4 secondi E fine Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!